Per essere persone per bene bisogna esserlo fino in fondo e per avere il diritto alla vita che è una declinazione della libertà bisogna che si dia l'esempio. Io l'ho fatto perché per poter guardare negli occhi mio figlio e dire io sono una persona per bene devo prima dare l'esempio, l'esempio che spero molti possano emulare affinché ci possa essere un mondo migliore. La grande condiziona tutta la vita, dagli impiegati, al commerciante, alle persone normali, non puoi vendere un appartamento, non puoi acquistare, non puoi fare niente, quindi un senso di ribellione a quello che è la cultura che da troppo tempo insiste in quella terra. Io essendo calabrese mi sento fiero di esserlo, ho cercato di dare il mio piccolo contributo affinché questo possa cambiare.